Oh Oh arriva Ci arriva l'altro si crede no 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 non dirmela Daiiii è meglio le cazze dei stili più c'è meno l'ultima cosa tipo la casa con la cantina possono esserci due casse e la pushiamo subito vuoi casa con i tronchi? casa blu? si andiamo con i tronchi ora vediamo, dipende quando gente c'era allora uno, due, tre leggermente corretto allora vieni alla casa con i tronchi dai luto prima la stanzetta del campo di calcio allora uno alla casa elettrica ce n'è ok non c'è un cazzo c'è un cazzo eccomi io vado sotto adesso io sono un assalto qui c'è la doppietta, prenditi la doppietta lì ah qui c'è un'altra, perfetto qui c'è due bomba scudini scudini ti lascio qua ottimo c'è un'altra bomba bellissima ok forse bomba io ho un assalto grigio se vuoi in più no no ce l'ho l'assalto sui tre posti giù allora eh l'abbiamo vai intanto un'altra bossietta se vuoi fare lo switch bomba si 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 buona 15 quando c'era della legna non hanno ben dotato si 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 mamma mia di luce che va quasi si si c'è qualcun altro c'è qualcun altro si spostiamoci si luta qua che c'è roba da prendere oh è qui dimmi se hai fight io sto lutando qua è qui 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 è nell'altra casa è il tetto dell'altra casa aspetta 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 ok ci sono mi hanno sparato da altra parte c'è qualcun altro qua mi sa si si qualcun altro mi ha sparato si è dove si è buttato questo dove si è buttato questo non è terra in casa da solo tipo io finisco l'attaccare e li prendo gli scudini di reserve io ho uno scudino di reserve Siamo 5 a 2 5 kg si sono fatti bene Abbiamo qua gente Pushiamo un po' Abbiamo vita e pompa Andiamo a cercare A me si ammazzano Oh qua qua Si ammazzano qua Si sono ammazzati Eccolo Un abissimo Questi due Si si da qua Bella Erano due Si si due Molto 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 Sparata col pompa da lì Gli assalti ce l'avevano Vieni con l'assalto Ce lo vedo I tre colpi C'è sotto il due Ah buono Ok allora ce ne posso andare Eh forse De questo al lato della città Vuoto Si però Non lo so se ci conviene lutare Perché Pushiamo Tanto il luce l'abbiamo Guarda quello si è fatta la quadrupla È giù Si Allora lui è Lui è il primo al quadru Quindi 5 a 4 Ok Ok E' un abissimo Si Per Anche senza skin E' il primo che hai ucciso Tu anche Senza skin si Allora si è tutto un team Non c'è nessun altro Un team di poteva un abissimo Stavo saltando in testa la di uno Il primo non era tanto stupido Perché ci era messo tipo dietro la porta a farmi il Il coso del 3 della terza persona Però non è riuscito a spararmi Lo è di scettare E' un progetto 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 Dunque l'altro giorno ho visto il video della doppietta Come era inizio di fortnite O' quelli che arrivano a prendere l'air drop Stiamo piano piano Li aspettiamo Se vuoi li spariamo Appena lo vedi tipo Si si appena sono lì Vai 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 Puoi lo sparare Io troppo tipo 90 scudo Uh è irritato ancora Non so se è Uno è quasi morto Uno è quasi morto E' sotto lì 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 E' davanti a te E' sotto E' 70 di vita E' 70 Coppiti 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 Sono andati Sono morti Sono morti Oh è giambato uno Sono tre morti tipo mi sembra E' giambato Dove è stato quello che è giambato eh Ma dove è andato? E' verso 210 Le fabbriche? Ah più in là Sì E' noi ne abbiamo tre qua che è attaccati nell'arco che schifo Che facciamo è difficilissimo finire di qua Sì è entrato Sì è entrato Quanti l'hai? Una c'è a granate se vuoi Sì sì me lo avranno Andiamo a loottare i tipi o busciamo? Puciamo? Oh Cazzo Attento a quello che ci cecchina Vuoi una jump? Vuoi una jump? Eh quanti l'hai tu? Attento attento ci buscia Sì Sì Si è fatto malissimo Attento ai suoi amici adesso Se poi sono abbastanza aggressivi mi sa come team Oh andiamo? Sì 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 Ma con solo quattro raggi Ah ne vuoi? Boh aspetta Ah vabbè trangli trangli Lo lascio questi pa Sì ora sparo di Uh i tatti tutti Un'attacca Un'attacca Non è atterrato solo quel tipo Attento che cadi hai tu Togliti da lì Io le inseguo uno tipo Sì 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 Vabbè finiamo questi Finiamo questo Vieni a cena? Eh? Vieni a cena? Ecco Un'attacca 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 Manche Gli ho sparrato di lanciarci Mi ha sparato di lanciarci Eh proposto Puoi dove sei? Sì 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 Ah è ovvio love Eh 12 kill Ah Ok non ci sono bastardo ti lascio qua non è cambiato e giambato a posto un giudice stato che si è spaccata la scala perché non c'è che cazza fatto ha sparato forse il ragazzo nella scala comunque uno è scappato al campo di basket io non ho bisogno di minuti niente perché sono caduti allora io vado a fightare prima di gente che sta giampando qua bella NIM io ho sentito due persone diverse a giampare, a me manca qualcuno oh loro sono anche loro pinnacoli vai loota anche tu lancia razzi dimmi se ti serve qualcosa attento non rompere le loro cose giochiamo proprio stile torneo non li facciamo i muri davanti a loro e' qua e' qua e' qua e' Andrea e' bellissimo fare queste sfide così e' c'è più competissimo si c'è più competissimo quindi ci chiamo meglio capito? si bellissimo ma poi in due è più facile capire cosa sta facendo l'altro e sai meglio cosa sta succedendo intorno si ti mette nella giambe? si anzi no no l'hanno ammazzato vabbè metto la giambe da quelli a... ma non me la mette oh c'è un casino qua c'è un po' che li sta ammazzando cazzo si me l'ha fottuto ma c'è ma sotto la mia giambe vuoi? dai io ti stavo difendendo da qui io ti stavo difendendo uuuh l'ho preso mi hai vista che volata li ho fatti non avevamo più cazzi praticamente oh qui c'è uno vabbè io devo giampare sono tutti di qua sono tutti di qua cazzo non lo ti metto io quanto siamo? uuuh 18 a 8 18 a 8 li hai lasciati? si 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 no 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 uuuh se li stava prendendo hai detto? si si hai jump tu? perchè mi devo lanciare a zigur? uuuh è morta io faccio una mega costruzione e salgo altissimo senza jump eh quindi non salite uuuh è morto via guarda che scala che ho fatto guarda la mia scala guarda la mia scala guarda la mia scala ho 141 danni subiti non ho subito niente c'è no 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 Grazie a tutti.